Chiusi parchi e giardini pubblici, aree cani, aree gioco ed impianti sportivi a libera fruizione con accesso regolamentato sino a venerdì 3 aprile. Questo è il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che ha disposto anche alla chiusura dei 54 cimiteri a retini ed ha annunciato controlli a tappeto per scoraggiare così eventuali comportamenti scorretti. Ai principali parchi cittadini recintati già chiusi si aggiungono così anche tutte le aree pubbliche con accesso regolamentato. Le aree verdi del comune di Arezzo prive di cancelli e recinzioni saranno invece oggetto di controlli specifici sempre nell'ottica di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone. L'ulteriore ordinanza firmata dal sindaco inoltre stabilisce la chiusura sempre fino a venerdì 3 aprile dei cimiteri. Saranno garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione ma le cerimonie di estremo saluto dovranno comunque essere ristrette ad un massimo di 10 persone e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. La chiusura coinvolge il cimitero monumentale di Arezzo e anche tutti gli altri 53 cimiteri extraurbani sparsi su tutto il territorio comunale.